261, al suono della campana, solo al suono della campana sta Filippo Marco Bologni, sulla Trust, Trust in me. Viene cambiato, è stato cambiato il tempo massimo della prima macchina, 77 secondi, 77. Il tempo è cambiato, ora è 7, 77 secondi. Un giro per Aurelie Vettestein, no fault. E quattro sono invece le penalità per Giampiero Garofalo a questo punto. Giampi ci sono банco, sotto quest'unerno rapращo per aiutare ilication, Grazie.